Quello che conta è proprio quello che mettiamo in corpo, per cui alcuni sono convinti che i grassi facciano male, in realtà i grassi sono l'unico carburante buono che possiamo mettere in corpo. E dai grassi non nasce il coresterolo e dai grassi non nascono le malattie metaboliche, né le malattie infiammatorie, né le malattie cardiovascolari, ma nascono dagli zuccheri che si trasformano in grassi e quei grassi saranno fortemente pericolosi. Quindi se noi teniamo il 40% dei carboidrati nella nostra dieta sempre a mattino, mezzogiorno, sera e spuntini, noi non produciamo insulina, quindi non produciamo quella molecola che si chiama acido arachidonico che è il principe di tutta l'infiammazione che capita nel nostro corpo. Quindi il coronavirus quando svolazzando arrivava da qualche parte e guardava bene l'aura di una persona e diceva ma quello ha l'acido arachidonico a 18, è un panino, e arrivava lì.